non essendo che uomini camminavamo fra gli alberi spauriti pronunciando sillabe sommesse per timore di svegliare le cornacchie per timore di entrare senza rumore in un mondo di ali e stridi se fossimo bambini potremmo arrampicarci catturare nel sonno le macchie senza aspettare un rametto e dopo l'agile ascesa cacciare la testa al di sopra dei rami per ammirare stupiti le immancabili stelle dalla confusione come al solito e dallo stupore che l'uomo conosce dal caos verrebbe la beatitudine questa dunque è leggiatria dicevamo bambini che osservano con stupore le stelle e lo scopo la conclusione non essendo che uomini camminavamo e lo scopo la conclusione non essendo che uomini camminavamo fra gli alberi benissimo grazie a tutti grazie